Si sta trasformando. Domanda È vero che il fenomeno medianico nella sua globalità si affievolisce? Guida Noi parliamo di insegnamento per la nuova razza che già c'è, non è nuova in senso assoluto. L'insegnamento dell'ultimo cerchio, quello più lontano, non potrà mai essere paritario a quello dei cerchi più vicini al nostro. Ma questa nuova razza ha una capacità vibratoria che è completamente diversa dalla vecchia razza, che è ancora la maggioranza e quindi ha bisogno di una suscettibilità diversa di insegnamento.